La storia è ambientata nel 1600 e lui è un grande spadacino il più grande appartiene al leggendario corpo dei cadetti di Guasconia lo stesso di D'Artagnan e Tre Moschettiani ma quella è un'altra storia a un certo punto del racconto lui combatte contro 100 e vince cosa? lui vince contro 100 anche contro 100 perché nel suo mondo Parigi lui è il numero 1 Rossana vuole incontrare Sirano in gran segreto per una confessione Sirano! ehi! Rossana! come è? loro sono il pubblico e noi gli attori gli attori senti adesso fai Rossana forza proteggetelo cosa? a quei burloni che troveranno ridicolo al centro del mio viso decine e decine di lettere tutte scritte da Sirano ma tutte firmate da Cristiano si che Rossana si innamora di Cristiano? dai Ciro ci decisi Ciro Ciro forza Cristiano dimmi che cosa è scritto vai vado al naso eh guerra guerra guerra